Ragazzi buona serata a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video, video subito neanche il giorno dopo, subito nella stessa giornata post Juventus-Frosinone 3-2 Allora, innanzitutto come vi dico sempre mettete mi piace al video, mettete mi piace al video, adesso affrontiamo un attimo un discorso che abbiamo affrontato anche negli anni passati ma siccome purtroppo la gente è testarda Allora, innanzitutto appunto dopo aver messo mi piace al video, sotto in iscrizione trovate tutti i miei social Altra cosa, io tra l'altro ho bannato uno su Instagram perché ho messo una clip dei miei corsi dove parlavo del calcio dal basso, lui mi ha detto fai il fenomeno, si parli di costruzione dal basso Beh, allora, innanzitutto era un'ora di lezione e per essere più veloce ho detto, stavo parlando con loro tra l'altro, con appunto chi seguiva la lezione Quindi ho detto velocemente così, mi sono sbagliato, ma non si dice neanche costruzione dal basso, si dice iniziazione dal basso se si vuole essere molto pignoli Quindi ho visto che anche il te, il maestro non lo puoi fare Però, sottolineato questo, perché comunque è giusto evidenziare Allora, 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 allora Innanzitutto devo dirvi che sono contento in generale di non far più parte di certe, sì, di non avere a che fare con certe persone Di non sentire o vedere più alcuni youtuber in generale Proprio di non, insomma, di non farmi neanche più arrivare certe cose E di aver detto basta, non fatemi più arrivare nulla Perché così posso dire liberamente tutto quel cazzo che voglio Senza lotture di coglioni, anche perché sinceramente basta, no? Quando ci sono degli youtuber in generale, degli influencer, delle persone e quant'altro Che ti cadono e ti scadono completamente È inutile neanche continuare Perché poi gli si dà solo importanza Detto questo Allora 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 Io ho visto alcuni video di qualche collega youtuber Ho visto il video di Colpo Gobbo Ho visto il video di Toselli Ehm Io mi soffermerei su quest'ultimo Allora, a parte appunto di Toselli, devo dire Scusate, di Colpo Gobbo Ha detto comunque la critica e quant'altro Quindi Anzi, io voglio partire da una cosa Perché quando sbaglio, secondo me è giusto Allora, ok? Video di oggi Ciao ragazzi, buona giornata a tutti Io lascio esultare i mediocri perché dopo una partita del genere Esultare perché ha vinto Dinenzia come sempre No? Allora, io voglio dire una cosa Mi soffermo su questa prima parte Non è che esultare da mediocri C'è chi ha esultato anche chi era allo stadio più per rabbia Più per nervosismo Più per lasciarsi andare E c'è invece chi ha esultato perché ha vinto un'altra volta Massimiliano Allegri Questo è il senso Allora, chi esulta perché Allegri Di fatto vince un'altra partita E quindi Scazza, secondo loro, le critiche Ma cosa che non è Perché chi è critico, chi è analista Sa bene che non è così Non può essere un gol al 95esimo Che cambia, insomma, le opinioni Non può essere così Se si vuole essere obiettivi a 360 gradi Ma che sia Allegri o che sia qualsiasi altro allenatore Dopo una partita giocata di merda L'ennesima E Quindi non è È riferito appunto Chi ha esultato per Allegri o Mediocre Ecco È Mediocre Non mi rimangono anche sul discorso dello stadio Perché chi va allo stadio E fisca fino in primo tempo Perché stai pareggiando Perdendo la partita E poi perché la vinci Esulti E applaudi La squadra E anche l'allenatore Sei molto ipocrita Io continuo a ribadire Che ci sono molti Che poi vanno allo stadio Magari fanno anche qualche corretto Per Allegri Ma Mi pare che si sia un po' smorzata la cosa Che Non vogliono Allegri Cioè che sono molto critici Nei confronti di Massimiliano Allegri Quindi anche là Punto di domanda Però arriviamo a Quello che ha detto Toselli Toselli ha detto Non ho risultato E me ne vergogno Adesso ci soffermeremo su questa frase qua Lui Dice Delle motivazioni Diverse Dalle mie Cioè io Non esulto più Ai gol A parte Qualche mesetto fa Ma più che altro Per Ildiz Per la scoperta di Ildiz Che ha svalutato pure lui Perché secondo me Il talento ce l'ha E l'ha dimostrato anche oggi Come ce l'ha anche Alcaraz E Tempo al tempo Secondo me Non sono fenomeni Ma Per il momento Quanto meno Però tempo al tempo Con un altro allenatore Per me renderebbero di più Vlaovic Comunque è arrivato 15 gol Stagionali Va detto questo 15 gol In campionato E Vi ho detto Che comunque Con Cioè Vlaovic A me non piace Non è un top player Secondo me Però 20-25 gol stagionali Secondo me ce li ha In tutte le competizioni 25 Ovviamente Potrebbe anche Addirittura fare di più Con un altro allenatore Per come la vedo io Ma vabbè Tornando a Toselli Allora Io ho delle motivazioni diverse Come ho detto Perché mi sento Sotto scacco del allenatore Non riesco più a risultare Perché c'è una Combricola dietro ad Allegri Perché È tutta una protezione Nei confronti suoi E ormai Io non parlo Come fanno altri Di Allegri Eventus Però Stai fatto che Questa non è più Juventus È inutile Parlarci E dire altro Al di là di risultati Di Prestazioni Questa non è più Juventus È tutto Forché Juventus Fino che ci sarà Purtroppo Questo Allenatore qua Ok E lui ha altre motivazioni Perché comunque Questa vittoria qui Arriva da Dopo comunque Risultati Prestazioni Indecenti Quindi Non arriva Una vittoria Per 3 a 2 Al 95esimo Dopo delle prestazioni ottime E dei risultati ottimi Quindi dice Vabbè Si vinca una Una partita così Esulto Così Lui Diciamo usa Un atteggiamento E delle critiche Un po' più moderate Sotto quell'aspetto Però sta il fatto Che anche lui Non ha esultato E sono praticamente Quelli che abbiamo Sempre definito No Gli youtuber Un po' più Aziendalisti Tra virgolette Cioè Più verso Magari L'elogiare La società O L'allenatore O chi per esso Un tesserato Eccetera E comunque Da qualche anno Mi han detto Io non li seguo Non li seguo In generale Però mi han detto Che comunque Toseli sta cambiando E ha cambiato opinione Ed è Sacro Santo Diritto Di tutti Cambiare opinione Io Sottolineo invece Il fatto che Non è Giusto Che lui Come me Perché Ripeto Non me ne vergogno A dire Anche E sono molto più forte Che a me Non dispiace Se la Juventus perde Ma ve lo dico Papale papale E non è Tifare contro Come fa qualcun altro Perché poi Ci sono i paragoni Con altri youtuber Non è tifare contro La Juventus E non Sentirsi più rappresentati Da questa squadra Non da questa squadra Da questo ambiente Ok Poi volete paragonare Fate il cazzo Che volete A me non mi interessa Io la penso così Ed è giusto Che io dica questo Io credo che Invece Chi ti fa allegri Non ti fa Juventus Io credo che Chi continua A esultare Per allegri Non ti fa Juventus Io Ripeto Che vinca O che pareggio Che perda la Juventus Da quando è tornato allegri Non mi fa né caldo Né freddo Ero più in ansia Quando c'era Pirlo Giusto per farvi capire Vivevo meglio la Juventus Quando c'era Pirlo Un elettore che io Ho considerato più un rischio Che un progetto Già all'inizio Quando l'abbiamo preso Ma lì avevo la sensazione Che Pirlo Non fosse Colato Non fosse tutelato A prescindere E se Qualora avesse sbagliato Se avrebbe stato mandato via Cosa che è successo Eppure Due trofei di merda Perché Va sottolineato Che sono due trofei di merda La Super Cup Per la Cup Italia Li ha portati a casa E una qualificazione In Champions L'ha portata a casa Quello che Gli si chiede ancora Ad Allegri Cioè noi arriviamo Da 11 anni di fine In Champions League E si chiede ad Allegri Di entrare In una competizione Che ci entriamo Da 11 anni Ditemi Dov'è il miracolo Siamo secondi Siamo secondi Certo Siamo secondi In un campionato Mediocre Perché Ma che mediocre Abbiamo 7 squadri Come sempre Poi magari quest'anno L'Inter Vince la Champions Faccio esempio Però in generale Alla fine Quando si Diciamo Restringe il campo Alla fine vince Sempre una squadra E non è mai italiana Dal 2010 in poi Ad oggi Insomma Lasciamo stare la Conference Che è una competizione A parte Quindi sotto questo aspetto Io Continuo a dire Sì secondo Ha più 4 Se non sbaglio Dal Nella stessa giornata L'anno scorso Quindi non è che stiamo Parlando di più 10 Cioè ci sono squadre Che quest'anno Hanno fatto più 10 Più 15 L'anno scorso Anche la Lazio L'anno scorso Aveva fatto Se non sbaglio Più 15 punti Rispetto all'anno precedente Cioè quello significa Fare Un netto miglioramento L'anno scorso Dato che mi si viene a dire Che c'era la sentenza Le motivazioni Le giustificazioni Bla 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 Ok Rispetto all'anno scorso Dovesti essere lì In lotta con l'Inter Se quello era un gran problema Non avere solo 4 punti in più Ma va bene Al di là Ripeto Di risultati Scudetto Non scudetto Per me Anche se avesse vinto Scudetto Allegri se avessi stato A mandare via Io ripeto Quando è arrivato Ho detto Quando è tornato Ho detto Lui se è tornato Deve essere tornato Per vincere qualcosa Di più importante Rispetto a quello che ha vinto prima Uguale Champions League Non solo non l'ha vinta E vabbè dici Quest'anno non ce l'avamo Ma non ha neanche dimostrato Miglioramenti Anzi è peggiorato Al secondo anno Rispetto all'anno precedente A livello Sia di prestazioni Sia di risultati Comunque 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 Vergognarmi O vergognarci Perché non esultiamo Allora Un tifoso Io ripeto Un vero tifoso Fa quello che si sente Nel senso che Se io mi sento Di esultare Esulto Sempre per la Juventus Non per Allegri Se io mi sento Di non esultare E di schifare Addirittura Non il risultato Ma il modo Con il quale Si esulta D'altra parte O arriva al risultato Io ho tutto il diritto Di esporre Questo mio sentimento Perché è un sentimento Il tifoso falso È quello che Al di là di tutto Mette i tesserati Prima da Juventus E quello è un altro discorso Ma a livello di esultanza Finge un'esultanza Che non prova Quello è un tifoso falso In quel momento là A livello di esultanza Quindi Io Toselli E chiunque Non abbia esultato Oggi E non solo oggi Non deve vergognarsi Di niente Invece Sapete chi deve vergognarsi? Deve vergognarsi Chi Ok Ci ha portato A non esultare Per un gol Della nostra squadra Del cuore Quindi Ripeto Parliamo di Andrea Agnelli Che ha richiamato Allegri Parliamo di John Elkan Che non l'ha mandato Viene estate Parliamo dello stesso Massimiliano Allegri Parliamo di Chi ha sempre Sempre Dico sempre Media Tifosi Opinionisti E quant'altro Hanno sempre Coccolato Massimiliano Allegri Allora Loro devono vergognarsi Chi Ha sempre giustificato In un modo O in un altro Massimiliano Allegri Ha sempre Nel dubbio Tirato fuori Una scusa Per difendere Allegri Loro Loro devono vergognarsi Non chi non esulta A un gol Perché si sente Di non esultare A un gol Della propria squadra Del cuore Perché non si sente Più rappresentato Come il sottoscritto O per altre motivazioni Come dice Toselli Perché non esce Non è che esci dal Diciamo dal turbamento Di questo periodo qua E sono d'accordo Se noi analizziamo Razionalmente la cosa Di Allegri Non Allegri Non esci Non esci Perché Abbiamo vinto In questi tre anni Di partite Non tantissime Però Quando abbiamo vinto Queste partite qua Al 94 Si diceva Ecco Adesso ci sarà la svolta No Non ci sarà la svolta Perché Perché Allegri Non ha tra le mani La squadra che aveva prima E non è il valore aggiunto Nonostante Prenda Lo stipendio Per essere il valore aggiunto Perché questo È un dato Di fatto Quindi Quindi Di fatto No Assolutamente no Caro Luca Non devi vergognarti Di non avere risultato Come Il sottoscritto Non deve vergognarsi Come tanti altri Non devono vergognarsi Abbiamo Allora di tutto Abbiamo opinioni diverse Per carità Non condivido molte cose Che hai detto in passato E che Che dici Cont'altro E vabbè Però Però Il vergognarsi Il vergognarsi Il vergognarsi Dovrebbe vergognarsi Veramente chi Mette Qua Allegri E qua la Juventus Quelli devono vergognarsi Deve vergognarsi Chi va allo stadio Io non parlo Perché poi È giusto A fine partita Se non ti piace Una prestazione E non il risultato Una prestazione È giusto Che tu fischi Ma A me Ha sempre dato fastidio L'incoerenza Allora Se tu sei Uno Che va allo stadio Per tifare Tifi Nel bene O nel male Se tu vai allo stadio Perché sei Vai allo stadio Con un occhio più critico Più analitico Analista Analitico Come in cazzo si dice Ok Fischi Prima E fischi Dopo Indipendente dal fatto Che tu Stia perdendo O pareggiando prima Ok O che appunto Poi alla fine Tu riesca a vincerla Questo Questo io voglio La coerenza Anche allo stadio Ok Poi Chi è coerente Con le pro Per carità Poi purtroppo C'è chi è coerente Nell'andare pro allegri E quello per me Comunque non è Essere Juventini Ma essere appunto Pro allegri Ma va bene Sì dopo Attenti tifo Perché Da quando è tornato allegri Sono state date A chi Non lo rivoleva Tipo Il sottoscritto Tipo Un po' tutti Della Juventus Io mi ricordo Le patenti di tifo Direttamente Anche da ex membri Che direttamente Indirettamente Te le davano Le patenti di tifo Quindi Questo Io do Le patenti di tifo Io le do Perché Io Non ho la faccia Come il culo Nel senso che Io sono diretto Non faccio Mezzi Cioè Non faccio Mille gili di parole Ma dico Le cose Come le penso Punto Sono sempre stato questo E sempre solo questo Qui Come al di fuori Di youtube Ok Ragazzi Ditemi la vostra Cosa ne pensate Del vergognarsi Nel non esultare A un gol Della propria squadra Del cuore Purtroppo Probabilmente Non è più La propria squadra È la propria squadra Sì Del cuore Un pochino meno O molto meno Rispetto a qualche anno fa E Se Quello che dovrebbe far pensare Che se Ci sono Youtuber Ragazzi Le società di calcio Guardano Guardano i social Da qualche anno Li guardano Perché Sanno E Diciamo Pesano L'umore Dei tifosi Se anche Quelli che hanno Diciamo Sono sempre stati più moderati E hanno Difeso Sempre di più Magari Il tesserato La società Iniziano A dire queste cose qua Probabilmente Probabilmente Io Qualche domandina In società Me la farei Poi Domanda Che vi Rigiro a voi Mi avete già risposto Qualcuno di voi Mi ha già risposto Ma le dichiarazioni Di Sì di fagioli Di giuntoli Ok Sul fatto che Noi vogliamo andare avanti Con Allegri E lui Vuole andare avanti Con noi Per voi Sono di facciata O sono reali Per voi Giuntoli Sta dicendo queste cose qua Per mettere con le spalle Al muro Allegri Dato che Allegri Più o meno Ha fatto la stessa cosa Nella conferenza stampa Prepartita Dicendo che lui In questo momento qua Non firmerebbe nulla Perché comunque Ha un contratto di scadenza Fino al 2025 Facendo capire che Un contratto ribasso Da quello che Diciamo Magari frainteso Io Però un contratto ribasso Lui non è disposto A firmarlo Quindi se voi Volete Propormi un contratto Ribasso Mi cacciate Quest'anno A fine in quest'anno Se no mi portate A scadenza di contratto Perché io non me ne vado E quindi È una risposta A quello O no Perché Alcaraz Comunque poi è stato messo Perché si è fatto male Faccio sempre Si è fatto male Rabiot Ma Alcaraz È stato piaciuto Ad aggiuntoli E Allegri Non lo voleva Perché Allegri Avrebbe voluto più Un buon avventura Un Quindi Domande Che giro voi A chi mi segue Buon Detto questo ragazzi Io vi rimando Vi riauguro Buona serata a tutti Buon fine settimana Fine fine settimana Perché ormai È domenica Sera E niente Caro Luca Non vergognarti Sono altri che devono vergognarsi Ok Ah e tra l'altro Io ho sempre Elogiato McKennie Io Vedete Non sono qua a chiedere ogni giorno Che io ti scusa Sono McKennie Perché Perché ci ho visto lungo E tutte queste robe qua No perché non mi interessa Eeeh Quanto meno sarebbe Ora e tempo Magari di ammettere Di aver sbagliato Su questo giocatore qua Tutto lì Ma per il resto Non mi interessa Che La gente venga a chiedere Scusa a me Non Ragazzi La parola scusa Per me è una parola Importante E deve essere usato Non per il calcio Per questioni personali Non per il calcio O per un'opinione Per questioni personali Punto La parola scusa Eeeh E niente Questo su Per quanto riguarda McKennie Basta Ragazzi Ognuno Ognuno La società Le trarrà Punto di domanda Ai posteri L'ardua sentenza Come si suol dire E solo il tempo Ce lo dirà Speriamo Incrociamo le dita Perché veramente Se verrà esonerato Proporrò Alla Juventus Scrivo di fare Una maratona Di una settimana Vabbè Buona serata a tutti E fino alla fine Forza Juventus Sempre E comunque E liberate La Juventus Alla Juventus